Stenta la ripresa nella nostra regione, lo dicono i dati Istat, in calo anche se non di molto gli occupati nella nostra regione, anche in calo leggero l'export. Professor Giuseppe Mauro, perché tutto questo? Perché ancora l'economia abruzzese non si è ripresa completamente dai due grandi sciocco che ha avuto. Il primo di carattere nazionale, cioè la grande crisi, e poi in secondo luogo la crisi dovuta al sisma nel 2009 e nel 2016 le altre calamità naturali che hanno caratterizzato i problemi di questa regione. Non a caso, voglio dire, la regione tende sempre più a configurarsi come una regione del manufatturiero, perché il settore industriale manufatturiero tiene bene, anche con riferimento alle altre regioni d'Italia, mentre le costruzioni, questo è una sorta di paradosso, che dovrebbero un po' rappresentare il volano di questo periodo per le cose che sono anche accadute, le costruzioni invece perdono circa 3.000 posti di lavoro. E 8.000 se il confronto lo facciamo con il 2008, cioè con il periodo pre-crisi. Quindi questo è il quadro. Mentre per quanto riguarda le esportazioni, noi abbiamo una situazione in cui tende sempre più a verificarsi questo fenomeno di concentrazione. Cioè, addirittura adesso, primo trimestre del 2019, il 52% delle nostre esportazioni sono dovute ai mezzi di trasporto. E addirittura il 71% sono concentrati nella provincia di Chieti. Questo dà l'esempio di una situazione quasi dicotomica, simmetrica, nel senso che abbiamo veramente grandi imprese molto competitive e poi abbiamo un tessuto di piccole imprese che lavora per il mercato interno e purtroppo la domanda interna, quella di consumi, ancora non è partita come avrebbe dovuto essere. Il problema è che si potrebbe, secondo me, porre in essere un piano immediato, infrastrutturale, perché sappiamo tutti che in questa fase congiunturale, tra virgolette un po' negativa, perché pare che il PIL nazionale nel 2019 sarà intorno allo 0,2-0,3%, invece, ecco, gli interventi infrastrutturali possono rappresentare un antidoto, perché sono fortemente anticicliche.